Il 30 ottobre, alla Sala Laurentiana del Villaggio del Fanciullo, si è tenuto un convegno sul progetto di adozione sociale, la solidarietà e il tutoraggio delle famiglie e delle imprese, ideato e promosso dalla Fondazione Paolus e finanziato dalla Regione Campania. L'obiettivo strategico del progetto prevede la realizzazione di interventi mirati al supporto di famiglie e piccole imprese in difficoltà, aiutandoli a superare la propria condizione di disagio finanziario e sociale attraverso la formula del tutoraggio assistito. 54 mesi di attività, 50 famiglie aiutate e aiutate anche in modo consistente perché abbiamo potuto concedere fino a 25 mila euro di fido, ripeto, che non avrebbe concesso nessuno o meglio, forse avrebbe concesso la criminalità, forse avrebbe concesso la camorra o gli usurai di quartiere, determinando la morte certa, sicuramente quella finanziaria e civile, di queste famiglie. Soggetti che versano in particolari condizioni di fragilità, vulnerabilità e a rischio usura o racket, saranno accompagnati da un'equip specializzata di professionisti, volontari e tecnici, al fine di condividere un percorso di aiuto finalizzato al superamento dei problemi economici e qualora si dovesse rivelare necessaria la denuncia. Il progetto è nato da questo desiderio profondo di dare attenzione, poi ci sono altri tipi di progetti, ma sempre con la spinta di essere concretamente attenti alle persone, alle persone in particolare che hanno bisogno, tanti tipi di bisogno. La Fondazione Paulus nasce con l'intento di tutelare e aiutare le famiglie. Qual è il ruolo della Chiesa proprio in questo ambito? Diceva Don Bosco, diceva che noi dobbiamo essere capaci di formare buoni cristiani, ma anche buoni cittadini. Non è possibile scindere l'essere cristiano dall'impegno concreto anche nella città, nel territorio. Quindi è chiaro che c'è un rapporto strettissimo. E poi essere cristiano, se veramente noi assumiamo il pensiero cristiano, se assumiamo i sentimenti di Gesù, lo stile di vita di Gesù, ci fa ancora di più avvicinare agli altri. E poi è chiaro che, l'altra cosa molto importante, noi dobbiamo sempre essere legati a tutti coloro, a tutti gli uomini di buona volontà, che vogliono aiutare le persone, soprattutto le persone più in difficoltà. Sono intervenuti Don Gennaro Pagano, presidente del Comitato Etico della Fondazione Paolus, Giuseppe Sottile, direttore della filiale di Napoli di Banca Etica, Franco Malvano, commissario regionale anti-racket e anti-usura della Campania. E quindi i progetti, l'altro precedente e questo, sono nati sulla base di una umile analisi che abbiamo fatto. Non siamo bravi. Io poi sono un criticone di me stessi innanzitutto. Cerchiamo di capire quali sono le criticità, cerchiamo di superare le criticità. Diciamole tra di noi almeno, in Camera Caritatis, le cose non vanno bene. Perché il diritto al credito è un diritto della persona, è un diritto umano. Questo non significa che Banca Etica presta soldi a chiunque, ma significa che chiunque ha il diritto di essere ascoltato, di rappresentare le proprie esigenze che siano personali, familiari o dell'impresa e ha diritto di, come dire, per lustrare insieme a noi una possibile soluzione quando c'è. Ci può spiegare come è strutturato? In che modo si interviene per aiutare questi soggetti in difficoltà? Beh, intanto ascoltandoli. Ascoltando le loro problematiche, individuando insieme a loro un percorso di soluzione e facendoci accompagnare da professionisti onesti, capaci, disponibili, che riescono insieme al soggetto, alla Fondazione, a trovare la soluzione strutturale alle problematiche. Chiude la conferenza il prefetto Domenico Cuttaia, commissario nazionale per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, che, oltre a esporre i dati dei fenomeni trattati, ha posto l'accento sulla solidarietà, una delle basi dei principi giuridici espressi della Costituzione italiana e sulla consapevolezza della forza della legge che le vittime di usura e racket non devono dimenticare di avere dalla loro parte. Ecco perché la solidarietà è la base su cui si ergono poi gli istituti giuridici e su cui debbono lavorare le istituzioni. E il principio solidaristico impegna tutti. E laddove una legge non dovesse rispettare il principio solidaristico, questa legge non sarebbe più conforme alla Costituzione. Quali saranno le prossime iniziative contro l'anti-racket e l'anti-usura che insomma intende intraprendere lo Stato? Ma non è che c'è un programma di iniziative, diciamo, prefissato. Noi svolgiamo la nostra attività e quindi cerchiamo di creare una rete territoriale e sulla base anche delle iniziative che vengono svolte sul territorio cerchiamo di valorizzare quelle che possano avere un maggior impatto come nel caso appunto di questa mattina. Grazie. 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 Grazie.